ola 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 io sono max dei berro fronzo benvenuti in un vlog abbastanza estemporaneo nel quale finalmente con un preavviso gigantesco di tre giorni d'anticipo riesco a dirvi che cosa farò io nei prossimi giorni nei prossimi giorni per chi già mi segue all'interno di minecraft o per chi mi segue all'interno della pagina di facebook che è qui linkata in descrizione io sarò a milano sarò a milano perché vado a vedere due concerti il 24 sera vado a vedere quello dei motored che all'ippodromo city sound e mentre il 25 sono sempre a milano a sentire gli aerosmith alla fiera milano live rock che dovrebbe essere da un'altra parte ancora data questa mia breve permanenza a milano che mi vedrà appunto arrivare il lunedì sera ripartire praticamente il giovedì mattina per poi arrivare il giovedì pomeriggio e poi tipo appena arrivo a appena arrivo a trieste mi trasporteranno dal lavoro mi trasporteranno al lavoro perché avrò due giorni di arretrato e si era parlato con quelli della geek battery e un po anche con i miei utenti per riuscire praticamente a come si può dire a fare un piccolo incontro molto semplicemente tra tutti quanti i vari fan della geek battery chiunque abbia piacere di incontrarci insomma allora il luogo e la data dell'incontro saranno appunto logicamente a milano io sto sudando d'accordo perché c'è questa cazzo di lampada che io devo avere addosso perché altrimenti mi non mi si vede un cazzo ma insomma va bene comunque il luogo e la data dell'incontro saranno effettivamente a milano in piazza duomo sotto al monumento quello del cavallo io non conosco piazza duomo mi sono fidato di persone che sanno dov'è questa cazzo di cosa e intorno a mezzogiorno e mezza o al massimo luna del pomeriggio all'incontro non sarò presente solamente io ci saranno oltre a me ci saranno il signor serghei ci sarà carbancos ci sarà leone elisabetta la famosissima ci sarà super bus ci sarà il tarf e non ho idea di quante altre persone dato che io probabilmente sarò in ritardo perché io di solito sono sempre in ritardo sono in ritardo il mio funerale porca puttana allora io adesso vi lascio una foto molto semplificativa di carbo in maniera tale che se lui arriva puntuale almeno lo beccate e aspettate insieme a lui che io possa arrivare guardate comunque all'interno della sua pagina di facebook ulteriori ragguagli per vedere se praticamente lui arriva prima eccetera eccetera nel momento in cui noi ci troviamo io non ho idea di che cazzo si fa ad un incontro quindi probabilmente ci faremo un po di foto e dopo di che andremo a mangiare tutti insieme al mcdonald o qualcosa del genere nel momento in cui l'avremo fatto al massimo alle tre e mezza quattro del pomeriggio non più tardi io partirò a gambe levate verso quel cazzo di concerto degli aerosmith perché voglio essere tipo con le transenne qua sullo stomaco d'accordo in maniera tale da riuscire a arrivare il più avanti possibile non sarò all'interno del golden pit però così per chiunque avesse piacere logicamente a seguirmi anche all'interno dei concerti e non solamente per per il come cazzo si dice per per questo questa specie di incontro insomma dove effettivamente saremo tutti quanti insieme il concerto dei motorhead come già detto si terrà l'ippodromo city sound di milano ci sarà uno special guest ma non idea di chi cazzo sia all'apertura delle porte alle 18 e 30 e si parla di martedì 24 mentre per chiunque volesse partecipare a quello degli aerosmith che tra l'altro il biglietto è anche un poco più salato si parla della fiera milano live raw il 25 sera e non ho idea tra l'altro di come potremmo organizzarci per riuscire a trovarci tutti insieme perché un concerto quindi praticamente lì dentro si va si scalcagna e ci si sgomita eccetera eccetera io vi invito a guardare all'interno della pagina di facebook che è qui della descrizione perché molto probabilmente nei giorni in cui io sarò a milano farò vari tipi di avvisi di foto e cose di questo tipo qua per farvi capire dove sono cosa sto facendo in vari posti di milano dato che di solito non serve dare semplicemente il mi piace alla pagina ma devi perché non ti arrivano comunque le notifiche devi praticamente mettere il click sul mi piace e dopodiché devi fare anche ricevere notifiche in questa maniera qua tu sai che la di facebook ti arriva praticamente la foto quando io la posto e non e ogni dopo questa cosa qua è necessaria semplicemente per le persone che mi vogliono seguire anche all'interno dei concerti perché metti che io arrivo più presto più tardi rispetto loro all'interno del concerto guardano ciclicamente ogni mezz'ora 10 minuti 20 minuti quando cazzo vogliono la mia pagina di facebook vedono dove cacchio io sono e riescono praticamente raggiungerci a raggiungermi in maniera tale praticamente da vedere il concerto tutti insieme bene non credo di avere nient'altro a dire a parte se volete semplicemente gli orari del treno in maniera tale che se qualcuno mi vuole venire che cazzo ne so a trovare la della della come si dice della stazione dei treni direttamente a milano oppure a mestre se siete se siete se abitate lì può venire a farlo allora eccoci allora io partirò da trieste centrale il 23 alle ore 15 e 15 quindi alle 3 e un quarto per arrivare a venezia mestre alle 17 08 ripartirò da venezia mestre alle 17 32 per essere con un freccia bianca a milano alle 19 e 55 dopodiché il 26 riparto alle 13 05 da milano centrale alle quindi per arrivare a venezia mestre alle 15 e 28 e finalmente arrivo riparto da venezia mestre alle 15 53 per arrivare a trieste il 26 alle 17 e 46 e questo è il massimo dell'organizzazione che sono riuscito a combinare in tutto quanto questo tempo vi saluto nei miei baffoni e vi saluta tra l'altro tutta quanta la geek battery in particolar modo le persone che probabilmente ci saranno lì quindi il signor tarfolone che appunto è ancora vivo la elisabella elisabetta anche se non fa propriamente parte della geek battery ma è abbastanza una una persona insomma che che spamma sempre all'interno del nostro team speak e basta signori io non penso di avere un altro a dire considerato che come al solito non l'altro rimasto a dire tra l'altro ciao a tutti quanti 8.200 magari lo dovevo dire all'inizio del video questa cosa qua io sono max sono fatto così e magari non tutti lo sapevate perché non tutti immagino che vadano a vedere se tutti quanti i miei cazzo di video fino ad arrivare ai vlog e basta dato che un altro rimasto da dire da max dai bello stronzo adios a todos e ci vediamo a milano stay metal porca puttana ciao